Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale della mia libreria. E continuo a ripeterlo, la sciarpa dell'Atletico Madrid rimane qua, chiaro, assieme alle sciarpe dell'Inter. Più chiaro ancora di così, non si può, non perdonerò mai al ciolo Simeone il suicidio di qualche giorno fa, non perdonerò mai all'Inter il suicidio contro l'Aintracht, ok, e che vedevo da dire, siamo nati per soffrire e ci riusciamo benissimo. Vabbè, ma come dire, non si può, non può piovere per sempre, diceva quello, e ogni tanto qualche gioia arriva, ma vabbè, lasciamo stare. Smettiamo di parlare di calcio, lo dico sempre, Churchill aveva ragione, noi italiani perdiamo le guerre come fossero partite di calcio e giochiamo le partite di calcio come fossero guerre, che vedevo da dire. Signori, a proposito di guerre, a proposito di guerre, a proposito di guerre, ho ripescato alcune cosucce, insomma mi è venuto in mente di parlare di un personaggio decisamente poco noto, ma molto importante nell'ambito della storia della seconda guerra mondiale, perché mi riferisco a quest'uomo qui, eccolo qua, quest'uomo. Se non sapete chi è, beh, poco male, perché quest'uomo ha passato veramente tutta la sua vita alla ricerca dell'anonimato, odiava farsi fotografare, credeva fermamente, scusate, scusate, credeva fermamente nella riservatezza, credeva nella discrezione, perché quest'uomo si chiamava Reinhard Gehlen, il generale grigio, l'uomo senza volto, l'uomo invisibile, uno dei più grandi, per usare il termine inglese, uno dei più grandi spy masters della storia, l'uomo che fin dal 1942 gestì la cosiddetta sezione FHO, ovvero sia la sezione eserciti stranieri orientali, che era la sezione del comando supremo della Wehrmacht, che raccoglieva informazioni militari segrete in Europa orientale, ok? All'epoca Gehlen, questo signore, ripeto, eccone qua un'altra immagine, ecco qui, all'epoca Gehlen era tenente colonnello ed era considerato un ufficiale dei servizi segreti brillante, capace indubbiamente, un organizzatore molto abile ed era considerato un superiore esigente e severo. Costituì una squadra di ufficiali che, vagliando scrupolosamente tutte le informazioni disponibili, tracciarono un quadro accurato e dettagliato delle forze sovietiche, fino ad un certo punto, perché, come dire, vabbè, dopo il disastro... Allora, il discorso è questo qua. Barbarossa per l'Armata Rossa fu un disastro, l'Armata Rossa fu travolta, ebbe milioni e milioni di perdite, ma ci si accorse, i tedeschi si accorsero con orrore che l'Unione Sovietica aveva molte più divisioni rispetto a quelle che i servizi di informazione avevano detto. I servizi di informazione tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale non hanno mai propriamente brillato per organizzazione e capacità, anzi, sapete bene, ho già parlato della guerra tra l'SD di Heydrich e l'Abwehr di Canaris. Insomma, la concorrenza tra i vari apparati dei servizi segreti, le concorrenze tra i vari servizi segreti, la concorrenza spietata, la guerra vera e propria che i vari servizi di informazione tedeschi si facevano fra di loro portarono a una gran confusione. E già nel 1941 in Russia i tedeschi si accorsero che le loro stime sul numero di divisioni sovietiche che si sarebbero trovati ad affrontare erano clamorosamente sbagliati per difetto. Perché? Perché niente. La cortina, insomma, la Russia di Stalin era decisamente uno stato poco penetrabile, se vogliamo. Sì, insomma, potete immaginarvi quanto poco facile potesse essere l'infiltrare spie nella Russia sovietica ai tempi di Stalin e soprattutto ricavarne informazioni decenti. Ok? Insomma, siamo sinceri, per quanto Heydrich fosse bravo nella disinformazione del complotto, scusate se ve lo dico, ma insomma, la disinformazia russa era disinformazia e maschirovka e sono due pietre angolari della filosofia militare sovietica. Disinformazione e mascheramento, la segretezza. Che vi devo dire? Non me lo invento certo io. Quest'uomo, ripeto, il generale che poi diventò generale, Rainer Gehlen, eccone qua un'altra foto, eccolo qui con alcuni colleghi, dicevo, Rainer Gehlen fu un uomo che, come dire, si occupò, si occupò di raccogliere informazioni a proposito dell'unione sovietica e dell'armata russa dal 42 in poi, grazie alla sua squadra. Era un, come dire, era un prussiano nato da una famiglia piccolo borghese e divenne prima della guerra il primo aiutante del generale Franz Halder, il comandante in capo dell'esercito. Allora, ripeto, nell'aprile 42 Gehlen fu posto in comando dell'FHO, la sezione eserciti stranieri orientali, ovvero sia la sezione dell'OKV, dell'Obercomando del Wehrmacht, che raccoglieva informazioni militari segrete in Europa orientale. Intelligence, signori, intelligence, la raccolta di informazioni, le spie, gli agenti segreti, sono un'arma fondamentale da sempre in guerra, dai tempi dei Sumeri e degli Accadici, per non parlare poi di Spartani, Romani, eccetera, eccetera. Le spie, gli informatori, da sempre un'arma fondamentale in guerra. Allora, ripeto, Gehlen era un superiore esigente e molto severo. La sua sezione si dimostrò estremamente efficiente, se vogliamo, anche se le informazioni ricevute spesso e volentieri erano fallaci e soprattutto grazie alla superiore abilità dei russi nella maschirovka e nella disinformazia, rimasero bellamente fregati perché quando arrivò il colpo di maglio, e parlo veramente di colpo di maglio, dell'operazione Bagration, i tedeschi non sapevano che cavolo stesse succedendo, anche perché a conoscere nella sua integrità i piani dell'operazione Bagration in tutta la Russia erano soltanto cinque persone, uno dei quali aveva i baffoni e fumava la pipa Dunil. E la suddetta pipa Dunil non sapeva niente di Bagration, ecco per dire. insomma, Reinhard Gehlen fu, nonostante alcuni gravi insuccessi, perché gliela fecero praticamente sotto il naso, Reinhard Gehlen si conquistò una fama, una grande fama come agente segreto, come organizzatore, come spy master, come dicono gli inglesi. Diciamo questa figura che manovra questo, questo, diciamo, agente di riferimento, chiamiamolo così, per le spie in territorio sovietico. C'è da dire una cosa, che quest'uomo, allora, mettiamola così, Gehlen era un nazista convinto che aveva però addirittura contatti con i congiurati del 20 luglio 44, riuscì a sfangarla, detta come, anche se molto probabilmente era a conoscenza del complotto, riuscì a salvarsi. Gehlen, come dire, alla fine della guerra si consegnò agli americani portando con sé praticamente gli uomini del suo ufficio e tutta una massa di informazioni da lui raccolte durante la guerra sull'Unione Sovietica, su Stalin, sullo stalinismo e anche alcuni agenti infiltrati in Russia. Insomma, un uomo, Gehlen, che dopo la seconda guerra mondiale riuscì a, come dire, intortarsi, se mi si passa al termine, riuscì a intortarsi bellamente gli americani, fornendogli informazioni sui russi, facendo leva sull'anticomunismo e manovrando americani e inglesi con una certa facilità, dicendo loro quello che volevano sentirsi dire, ok? Perché, mettiamola così, Gehlen era un abile, ripeto, era un abile organizzatore, era un abilissimo gestore di reti spionistiche, sapeva bene il suo mestiere, ma era anche un grandissimo furbo, perché quest'uomo, questa faccia, siamo sinceri, quest'uomo, anonimo, grigio, invisibile, invisibile, l'uomo senza volto, come lo definì un giornalista, l'uomo senza volto, quest'uomo, molto probabilmente è da considerare uno degli inventori e una delle principali cause della guerra fredda, perché, detta così com'è, era anticomunista, ferocemente anticomunista, disse agli americani quello che gli americani volevano sentirsi dire, facendo leva proprio sull'anticomunismo, facendo leva proprio anche sull'ingenuità americana, che poco o nulla capivano delle faccende europee. Gli americani si sentirono dire quello che volevano farsi sentir dire, sfruttarono e Galen seppe rendersi indispensabile agli americani per la raccolta delle informazioni, diventando nel dopoguerra anche il capo del BND, ovvero sia il servizio segreto federale della Germania occidentale. Però, c'è da dire una cosa, tutta l'organizzazione Galen, tutte le spie, tutto il resto così, fu pesantemente compromessa proprio dalle spie sovietiche. Il più famoso di tutti era l'inglese Kim Philby, che conosceva, insomma, che contribuì ampiamente allo smantellamento delle reti di Galen in Europa orientale, e da svariate altre talpe dei regimi dell'Europa orientale, che è anche e soprattutto da simpatizzanti comunisti tedeschi e di altri paesi. C'è anche come dire una cosa, praticamente Galen diventò presidente del servizio informazioni della Repubblica federale tedesca, del BND. Quando fu cacciato dal servizio che aveva contribuito a creare, perché ci fu una scoperta clamorosa, ovvero sia uno degli uomini di fiducia di Galen, la spia, insomma l'agente segreto Heinz Filff, ovvero sia che era un ex tenente delle SS, ma anche spia sovietica, passava informazioni alla Repubblica democratica tedesca. Insomma, praticamente una delle più grandi spie della storia, uno dei più abili agenti segreti di tutti i tempi, un uomo fissato con la sicurezza, con la discrezione, con l'anonimato, con la paranoia anche se vogliamo, soprattutto la paranoia anticomunista, aveva tra i suoi vice un ex SS, agente segreto infiltrato da parte dei servizi segreti della Germania Est, che passava notizie riservate a Mosca. Insomma, la carriera di Reinhard Galen come spia si concluse in maniera ingloriosa. Personalmente, e qui però giungiamo alle mie convinzioni personali che mi sono fatto leggendo libri che parlano del personaggio Reinhard Galen, eccolo qua di nuovo al suo posto di lavoro. Galen era indubbiamente un abile agente segreto, un abilissimo uomo politico, ma un ancora più abile promotore di se stesso. Sapeva vendersi bene, seppe vendersi bene, seppe far dimenticare certe cosucce agli alleati, seppe dire agli alleati quello che gli alleati volevano sentirsi dire e quindi divenne, seppe rendersi indispensabile nel dopoguerra. E, ripeto, quest'uomo seppe anche, fu anche tra gli inventori della guerra fredda, perché fu tra coloro che alimentarono il sospetto anticomunista, cioè le paranoie anticomuniste, fu tra gli uomini che, come dire, spinse l'Occidente verso la guerra fredda. Aiutato in questo dai generaloni tedeschi presenti nella Germania occidentale, da von Manstein a Guderian, dal vecchio von Rundstedt fino a Halder, l'ex superiore di Galen, ok? Questa massa di, questo gruppo di generali della Wehrmacht, seppe lavorare estremamente bene nel convincere le potenze vincitrici a diffidare della Russia sovietica. E da qui, insomma, se per più di trent'anni il mondo è vissuto sotto il ricatto e la paranoia della guerra fredda, sia a Oriente che a Occidente, la colpa è anche e soprattutto di quest'uomo. Un agente segreto abile, indubbiamente, un uomo intelligente, un uomo, ripeto, abile nel suo mestiere, ma anche un uomo che è tra i più sopravvalutati della Seconda Guerra Mondiale e del periodo successivo, perché, ripeto, si fece malamente fregare. Nel 1968 la sua leggendaria carriera di spia terminò, perché, ripeto, l'ex tenente delle SS Heinz Filfe, che lavorava fianco a fianco con Galen nel quartier generale della BND, insomma, che vi devo dire? Aveva saputo vendersi bene, ma in realtà aveva venduto anche parecchio fumo. Perché? Perché praticamente quando fu cacciato dal BND si scoprì che i servizi segreti federali, i servizi segreti federali della Germania occidentale, della Repubblica Federale Tedesca, erano tutt'altro che un esempio di efficienza, erano tutt'altro che, come dire, in grado di contrastare le infiltrazioni delle spie da Est, erano tutt'altro che in grado di penetrare a Est. E Galen, una volta, diciamo, finita la sua, insomma, una volta costruitosi il suo impero, una volta, ripeto, resosi indispensabile agli americani con le sue informazioni sull'Unione Sovietica, quest'uomo, una volta esaurito il tesoretto, chiamiamolo così, delle sue originali, insomma, una volta esaurito il tesoretto delle sue informazioni postbelliche, non fu in grado di organizzare bene il BND, che era un organismo pletorico e inefficiente, manovrato quasi esclusivamente dagli ufficiali che avevano collaborato con Galen durante la Seconda Guerra Mondiale e che era, ripeto, pesantemente infiltrato dai servizi segreti dell'Europa orientale, dai servizi segreti del patto di Varsavia, dai servizi segreti della Repubblica Democratica Tedesca. Ok? In pratica, signori, un abile venditore di fumo, un abile promotore di se stesso, un abile spia, sicuramente, ma che finì decisamente male la sua carriera perché non seppe dimostrarsi all'altezza della fama che si era costruito da solo. Eccolo qua. Reinhard Gehl, il generale grigio, l'uomo senza volto, il, come dire, il, forse, il vero creatore della guerra fredda, molto probabilmente uno dei manovratori politici della guerra fredda. Indubbiamente furbo, ma, come dire, trovo qualcuno più furbo di lui. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!